28 luglio 1914. A un mese di distanza dall'assassinio a Sarajevo per mano di un nazionalista serbo, dell'erede al trono austro-ungarico, Francesco Ferdinando, Vienna dichiara guerra alla Serbia, seguita dalla Germania, che scende in guerra contro la Russia, a corsa nel frattempo in aiuto della Serbia. Anche la Francia si mobilita e la Germania reagisce invadendo il Belgio. La Gran Bretagna difende i Belgi schierandosi contro i tedeschi. È l'inizio della prima guerra mondiale, che si concluderà oltre quattro anni dopo con la sconfitta della Germania e dell'impero austro-ungarico.